Con l'aiuto di uno psicologo il difficile diventa facile. È lo slogan del MIP, Maggio dell'informazione psicologica. Nell'ambito della manifestazione si è tenuto ad Aversa, presso la biblioteca, libreria sociale Il Dono, l'incontro e il mondo in una fiaba. I nostri pensieri, i nostri percorsi, le nostre vite sono fiabe, spiegano le organizzatrici. E fiaba l'amore, l'odio, la gioia, la tristezza, l'unione, l'addio. Ecco perché possiamo usare le fiabe qua di strada nel viaggio della crescita. Un incontro studiato ad hoc per i genitori e per rendere i figli partecipi di una meravigliosa avventura nel regno delle fiabe. L'evento si è svolto in collaborazione con l'associazione Legami, Convergenza, il progetto Nati per Leggere ed il presidio Libera di Aversa.